Vorrei che lo descrivesse insieme a Dario, però vorrei che lo descrivesse lui perché c'è tutta una storia dietro da raccontare. Non descrivo niente perché tanto adesso si riuscirà a capire, spero man mano che si svolge. Quello che volevo dirvi è che ringrazio tutti di essere qui, soprattutto Edoardo, che ha una battaglia d'oro. Questa è una sorta di prova generale, la prima volta che facciamo questa cosa qui, Lilli già in passato ci ha ospitato e ci ha permesso di fare questo genere di operazione. È stata una bellissima serata. Vediamo un po' come viene, a noi sempre, quindi voi sarete più che degli spettatori delle carine. La PIS si intitola Come una nuvola. No. Spegniamo. È tutto a voi. È tutto a voi. Bravo, bravo.